Avvertimento o provocazione? Una ventina di attivisti nazionalisti giapponesi a bordo di 5 imbarcazioni si sono avvicinate alla Cina orientale, all'arcipelago al centro di un contenzioso territoriale tra Pechino e Tokyo, una prova di forza sull'influenza del Giappone nell'area. La Cina continua a invadere le acque territoriali giapponese e a pescare intorno alle isole Senkaku. Siamo qui per dimostrare che ci appartengono. Se nessuno fa niente, il Giappone rischia di essere in serio pericolo. L'arcipelago conteso è totalmente disabitato, ma il mare è ricco di pesce e idrocarburi. La scorsa settimana Tokyo aveva ufficialmente protestato con la Cina per la presenza per più di 24 ore di 4 navi nei pressi delle isole.